con la nuova gamma di piani cottura induzione candy che si adattano ad ogni esigenza di cottura è facile cucinare in modo rapido preciso e sicuro merito della tecnologia induzione che ha rivoluzionato il modo di cucinare grazie a quattro vantaggi strategici tempi di cottura ridotti precisione di cottura grande sicurezza e pulizia facile con l'induzione infatti i tempi di cottura si riducono fino al 60% rispetto ai tradizionali piani cottura gas con risultati di cottura molto più precisi e uniformi grazie ai livelli di potenza regolabili tramite i comandi centrali touch dei piani candy puoi impostare il giusto calore per ogni ricetta senza paura di sbagliare e con la modalità booster puoi far bollire l'acqua in soli tre minuti sei preoccupato per i consumi puoi stare tranquillo perché con i nuovi piani induzione candy grazie al power management puoi decidere di limitare la potenza tra i 2,5 kilowatt e i 7,4 kilowatt anche se utilizzi tutte le zone di cottura contemporaneamente garantendo alte performance di cottura ma non è finita qua perché rispetto agli altri tipi di piano cottura i piani induzione candy sono più sicuri non c'è fiamma non c'è rischio di perdite di gas e l'unica zona che si riscalda è quella sotto la pentola e una volta rimossa la pentola il piano induzione smette di funzionare gli sono inoltre una serie di indicatori di sicurezza sul display che evitano non solo gli sprechi di energia ma anche i comunici denti domestici come il rischio di uspione per finire la sicurezza dei bambini è garantita dalla funzione blocco bambino che impedisce qualsiasi attivazione accidentale con l'induzione poi la pulizia è un gioco da ragazzi ti basterà passare delicatamente un panno umido senza strofinare né fare fatica e senza rischio di scottarsi perché il piano resta sempre freddo è tempo di cambiare le tue abitudini in cucina l'induzione dei piani cottura candy migliora le tue performance in cucina senza fare fatica e con risultati da applauso